Mi sembra che il Salone del Mobile abbia messo il vestito buono quest'anno per venire a Mosca. E' all'altezza delle aspettative, cioè il Salone del Mobile ci ha abituati all'eccellenza assoluta, è diventato un momento che non si può perdere e l'hanno capito nel mondo. Se dobbiamo esportare questo modello dobbiamo farlo con il vestito buono, quest'anno è perfetto.